Alessandro Vaglio, avete cominciato l'Italia in baseball series, sono una bella vittoria contro San Marino, dopo le difficoltà iniziali della serie contro Parma invece? Sì, è stata una bella partita, abbiamo giocato al nostro livello, diciamo che con Parma nelle prime due partite loro hanno giocato veramente un gran baseball, hanno approfittato di tutti i nostri errori, hanno fatto le valide nel momento giusto e quindi le prime due partite sono riuscite a portare a essere a casa. Da lì abbiamo costruito piano piano, inning dopo inning, le nostre vittorie e siamo arrivati alla finale di campionato che è un'altra serie, un'altra storia, quindi buona la prima. Avete sfoderato le qualità dei vostri lanciatori e in attacco siete stati chirurgici segnando i punti giusti nei momenti più importanti? Sì, le finali si vincono punto a punto, quindi è importante sfruttare quel poco che viene concesso. I nostri lanciatori hanno fatto un gran lavoro, Steven ha sbagliato, se si può dire sbagliato, solamente il terzo lancio nel primo uomo con Giordani che ha fatto un gran giro e si è guadagnato il primo punto della partita, poi ha comandato bene nella partita, noi abbiamo costruito piano piano un punto, ha spostato l'uomo, Bant, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Domani gara 2 con i lanciatori AFI, la possibilità per voi in caso di vittoria di portarvi molto vicini allo scudetto? Pensiamo a vincere ogni inning, poi vedremo come va. Perfetto, grazie. Grazie.